La Liguria non può permettersi altra disoccupazione. Gioco d'azzardo, il presidente della regione Liguria Giovanni Toti difende i piccoli esercizi e i bar di paese. Incendio alle pendici dello Zata, vigili del fuoco del distaccamento di chiave richiamati in alta va a Graveglia nei boschi di Repia attorno alle 6.30 di questa mattina. Minaccia butta fuori con un coccio di bottiglia e è caduto fuori da una discoteca a intervento dei carabinieri di Sestri Levante. Buonasera dal TG Tiguglio. Parliamo di Gioco d'azzardo. Nei giorni scorsi ricorderete Marco Doria, sindaco di Genova, aveva parlato della questione dello slittamento di un anno delle entrate in vigore della legge regionale sul Gioco d'azzardo. Siamo stati all'avanguardia contro la piaga del gioco d'azzardo e vorremmo che tutti gli enti pubblici si impegnassero con uguale energia. Il messaggio del sindaco Doria era chiaramente rivolto al governatore della Liguria Giovanni Toti, invitato a non concedere la proroga. La legge, prevista per il prossimo 2 maggio, prevede una distanza minima obbligatoria di almeno 300 metri tra le sale gioco e i luoghi sensibili e metterebbe a rischio le concessioni di numerose slot machine. Oggi in regione tanti operatori del settore si sono presentati per protestare e proprio oggi, a margine del Consiglio regionale, Giovanni Toti ha detto che il territorio non può permettersi altra disoccupazione. Vediamo. Non sottovalutiamo il disagio delle lutopatie, ma quello che vogliamo evitare è aumentare ulteriormente il disagio in un territorio come la Liguria, già maturiato, che non può permettersi di incrementare i livelli di disoccupazione, soprattutto in assenza di un quadro nazionale che è stato respinto dalla Conferenza delle Regioni che ha chiesto un approfondimento al Governo per una legge quadro che doveva dare le linee guida, ma che ci appare molto larga per i mini casino, ad esempio, ma molto restrittive verso chi gestisce quella parte di gioco da sempre connaturata agli italiani. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, oggi a margine del Consiglio regionale e aggiunge Non ci si può accanire contro i piccoli esercizi o il bar di paese che svolge un servizio per tanti cittadini. Fare di tutta l'erba un fascio è solo populista, ideologico e approssimativo. Serve aprire un ampio confronto con tutte le categorie, comprese le associazioni che combattono contro una grave forma di patologia come la ludopatia, ma non si devono creare ulteriori problemi su un tessuto economico già lacerato. Se fosse arrivato un testo condivisibile con le linee guida in conferenza delle Regioni, prosegue Toti, sarebbe stato semplice adeguare il testo Ligure al disegno di legge nazionale, condiviso da tutti i governatori, ma sul percorso legislativo nazionale si sono manifestati dubbi a destra e a sinistra. Pertanto riteniamo necessario un approfondimento e una pausa di riflessione anche in Regione Liguria, altrimenti si rischia di creare altri 3.000 disoccupati. Non credo, conclude Toti, che la Liguria se lo possa permettere. Un incendio boschivo è divampato questa mattina attorno alle 6.30 sul Monte Zata, dal lato di Repia nel comune di Nè in Alta Val Graveglia. Sul posto sono subito arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, del distaccamento di Chiavari, ma anche di Genova e un canadere per fronteggiare un vasto rogo che è stato posto sotto controllo e non ha minacciato, fortunatamente, le abitazioni. Polemiche su preli, siamo a Chiavari, i cittadini guardano in credito nei sei piani dei nuovi edifici, dicono i 5 Stelle chiavaresi. Sulla sponda sinistra della Intella, invece, i grillini, ma di Lavagna, criticano il silenzio sul ripristino del tratto crollato, ma anche l'appoggio della Regione Liguria al progetto della Diga per figli al Tribunale delle Acque. I 5 Stelle di Chiavari, con una nota del candidato sindaco Roberto Traversi, tornano a parlare dei lavori nell'ex cantiere navale di Preli, descrivendo i cittadini che davanti ai sei piani dei nuovi palazzi si accalcano in Piazza dei Pescatori quasi sgomenti. I grillini rivendicano però in materia una battaglia parzialmente vinta, avendo fatto spostare il tracciato della passeggiata a mare nella proprietà privata, quando, dopo aver negato a lungo che si sottraesse spiaggia, il sindaco Roberto Levaggi dichiarò, dopo una riunione in Regione, che la passeggiata sarebbe stata ricondotta nella proprietà privata entro il filo del muro antisbarco. I 5 Stelle di Lavagna, invece, con una nota dal portavoce Luca Ricci, parlano dell'Intella. C'è il silenzio su qualsiasi opera di ripristino della sponda del fiume da parte del Comune di Lavagna. Purtroppo, dice ancora Ricci, la ciclabile Gino Bateli risulta essere sempre più compromessa. E intanto, in questo quadro di complice silenzio da parte delle istituzioni, siamo venuti in possesso di una lettera della Regione, protocollata il 9 gennaio al Tribunale delle Acque di Roma, in cui si dichiara sostegno e condivisione del progetto della Liga lungo la piana agricola del fiume. E la stessa Regione, che tramite alcuni suoi illustri rappresentanti politici, concludono i grellini lavagnesi, si è dichiarata dubbiosa e contraria all'opera, ma che poi, nei fatti, agisce in maniera opposta. I carabinieri della stazione di Reco hanno rintracciato e tratto in arresto a seguito di un ordine di carcerazione messo dalla procura di Torino. Un 63enne piemontese è identificato e ritenuto responsabile di una truffa avvenuta nel 2011 a Leini, in provincia di Torino. Per il reato, l'uomo è stato condannato a 5 mesi di reclusione al pagamento di 200 euro di multa. L'arrestato, dopo le formalità di diritto, è stato condotto nel cacere di Genova Marassi. Scontro tra il Comitato Pendolari Levante Ligure, Rete Ferrovia Italiana e Trinitalia, dopo il caso dell'investimento mortale di ieri all'altezza della stazione ferroviaria di Genova IV. Il Comitato Pendolari Levante Ligure ha scritto all'assessore regionale Giovanni Berrino e al direttore Trinitalia per la Liguria Marco Della Monica per segnalare la gravità di quanto subito dai pendolari viaggianti sul treno 11226, il treno che si è fermato ieri mattina a causa dell'investimento mortale di un uomo nei pressi della stazione ferroviaria di Genova IV. Purtroppo ci troviamo a dover segnalare che ancora una volta è stata data precedenza all'aspetto economico dell'azienda e non alla salvaguardia di circa mille persone che sono rimaste coinvolte, il loro malgrado, nel terribile incidente. Persone, dice ancora la nota, che hanno passato due ore chiuse dentro un treno all'interno di una galleria finché non è stato affiancato un treno proveniente da Recco su cui sono stati trasbordati tutti i viaggiatori. Noi ci rendiamo conto della delicatezza dell'argomento e di quanto non sia facile affrontare la questione però riteniamo che le persone vengono prima di tutto e sarebbe stato opportuno e doveroso trasbordare tutti i passeggeri sul primo convoglio che è stato fatto transitare a seguito dell'incidente l'Intercity 658 che era quasi vuoto e non fare distinzioni tra treni regionali e Intercity perché siamo tutte persone. Preghiamo l'assessore Berrino, conclude la nota, anche lui destinatario della presente di prendere posizione in merito perché quanto accaduto non si ripeta di nuovo. Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia replicano al Comitato dei Pendolari con una nota congiunta. Il trasbordo in linea di circa 600 viaggiatori e non di mille come riferito è stato attuato proprio per ridurre i tempi di attesa dei passeggeri ed è avvenuto su un treno regionale anziché su un Intercity per ragioni tecniche di sicurezza e di comfort perché il treno Vivalto ha porte più ampie di quelle di un Intercity. L'Intercity è transitato a fianco del treno bloccato solo 11 minuti e non un'ora prima del regionale su cui è stato effettuato il trasbordo. Le operazioni avvenute con il supporto delle Forze dell'Ordine hanno richiesto circa 40 minuti. Sono stati necessari quasi 60 minuti tra l'investimento e la ripartenza dei primi treni per le necessità di verifica di percorribilità del binario a Tiguo a cura delle autorità intervenute uniche a poter autorizzare la ripresa del servizio. E ora due notizie di cronaca la compagnia dei carabinieri Sestri Levante hanno deferito in stato di libertà per minaccia aggravata un 29enne del posto poiché nei pressi di una nata discoteca ha avuto un dissidio per futili motivi con un addetto alla sicurezza del locale lo ha minacciato brandendo il collo di una bottiglia di vetro minaccia che per fortuna non ha avuto ulteriori conseguenze. E sempre la compagnia di Sestri Levante ha denunciato in stato di libertà per ricettazione un ragazzo di 18 anni sorpreso in sella ad una bicicletta rubata nel novembre 2016 ad un 45enne della provincia di Piacenza la bicicletta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario e per concludere con Massimo Lagomassino parliamo del carnevale di Tribogna. Altra bella iniziativa Tribogna del locale Comitato San Martino questa è la volta del carnevale siamo un po' in ritardo rispetto alla data tradizionale ma tanti bambini e tanti cari per una bella festa. Sì, siamo un po' in ritardo ma noi siamo sempre in ritardo nel senso che tutti gli anni la festeggiamo sempre due settimane dopo il carnevale quest'anno non abbiamo fatto la classica festa del Pignatin per motivi organizzativi però comunque cerchiamo sempre di organizzare qualcosa soprattutto per i bambini un bel pranzo e poi partiamo per il giro nel paese con il carro che vedete qua pronto. Altre iniziative in programma da parte del Comitato? In programma sicuramente c'è la festa di Sant'Antonio a giugno e poi faremo come tutti gli anni la Madonna del Rosario a settembre ancora da definire nel dettaglio il programma però ecco, non ci siamo. Andrea Giorgi, presidente di Angaval un'associazione politica che si è costituita qui a Lavagna con come motto l'impegno per il futuro di questa città è così? Perché è un nome da leggersi al contrario? È un nome da leggersi al contrario per far capire alle persone che le nostre intenzioni sono quelle di lavorare al contrario di prima abbiamo sotto gli occhi i risultati e di conseguenza vorremmo cercare di tornare anche indietro in questo momento abbiamo l'impressione che Lavagna sia stata trasformata o si sia trasformata per incuria in una specie di periferia non c'è più una zona di Lavagna bella da dire questa Lavagna, no sembra tutta una periferia di Chiavari o di Sesti Levante e noi vorremmo cominciare a lavorare già adesso anche nell'incertezza delle elezioni che effettivamente non abbiamo ancora capito nessuno quando si andrà a votare ma in ogni caso noi stiamo già lavorando molto pensando al futuro di Lavagna Nel molto lavoro evidentemente ci sono già anche dei numeri questo vostro gruppo, questo vostro unirvi conta già circa 150 associati, è così? Sì, il gruppo conta già 156 iscritti ma la cosa positiva è che nell'ultimo mese è cresciuto di 60 quindi ci siamo resi conto che effettivamente la gente adesso ci segue e ha capito che le nostre intenzioni sono pulite siamo un gruppo di persone normali ciascuno col proprio lavoro con la propria famiglia con i problemi di tutti i giorni che però abbiamo deciso di mettere a disposizione della città il nostro tempo e quelle che possono essere anche le nostre competenze per raggiungere un risultato che chiaramente si svilupperà nel corso di molti anni In attesa di capire se Lavagna andrà alle elezioni e pare che sia una decisione remota con molta probabilità quest'oggi voi avete convocato una conferenza stampa per dire qualcosa che riguarda gli immigrati cioè quello che il commissario ha preso come decisione quella di unirli e portarli a cavi a relenle cosa che voi in questo momento discutete Sì, per la situazione che sta vivendo Lavagna di conferenze stampe bisognerebbe convocarne una al giorno probabilmente ma questa emergenza dell'accoglienza degli immigrati ha un fine umano che non può essere sottovalutato doveva necessariamente essere affrontato subito per noi la soluzione di creare un campo accoglienza con dei prefabbricati in una zona isolata come quella della Besanza è una soluzione umanamente inaccettabile io credo che nessun comune del Tiguglio abbia aderito a una soluzione di questo tipo noi siamo, anche perché stiamo parlando di numeri relativamente bassi si parla di 20, 25, 30 persone comunque sono niente rispetto alla popolazione di Lavagna noi siamo per un'accoglienza finalizzata a un inserimento nel tessuto sociale lavagnese e anche a livello lavorativo quindi vorremmo che il commissario valutasse delle soluzioni alternative che abbiamo anche individuato ed esposto nel nostro comunicato stampa per cui trovare degli alloggi che riteniamo che ci siano dove poter far vivere queste persone Avete chiesto un confronto? Fino adesso col commissario no anche perché sappiamo che è molto impegnato io ho avuto un'esperienza diversi mesi fa avevo chiesto un colloquio per parlare di un problema e effettivamente ho dovuto aspettare circa tre mesi sollecitandolo anche mi rendo conto che lui ha anche un doppio incarico a Roma quindi non è qui presente tutti i giorni però questa emergenza dei migranti a Cavi va affrontata in termini umani e morali diversi da quello che è stato previsto Qual è secondo voi l'impatto che questo potrebbe creare su Cavi a Renelle? Ma allora, noi abbiamo sollevato un duplice problema che a Cavi a Renelle ci sono degli immobili occupati abusivamente da persone che non credo che siano estracomunitari ma in ogni caso sono occupazioni clandestine e creano molto disagio nel quartiere noi abbiamo ricevuto molte richieste di interessamento per questo problema ci siamo rimasti male perché la sinistra levanese ci ha accusato di aver fatto un minastrone mescolando il problema dei migranti con quello dell'occupazione abusiva di Cavi secondo noi purtroppo sono due problemi diversi sicuramente ma che vanno affrontati contestualmente Carla Bonino è il segretario di Angaval e come vi organizzate? Senz'altro ci organizzeremo interpellando la città come è stato detto nel corso della conferenza stampa tramite questionari a domande chiuse per organizzare la nostra attività futura in stretto contatto con la cittadinanza per non calare dogmi sui cittadini come è stato fatto sino ad oggi però invitiamo tutti a visitare il nostro sito e a inviarci delle proposte a chiederci a mettersi in contatto con noi è molto semplice info.angaval.it quindi si invia un messaggio e poi saranno ricontattati? Senz'altro risponderemo a breve termine Roberta Corvisiero presentiamo l'edizione la quinta di quest'anno del concorso fotografico Rendere visibile l'invisibile in ricordo di Marco che era maestro di sci e amante della natura dello sport ma soprattutto forse anche o in egual misura della fotografia dove sarà questo concorso Roberta? Questa è la quinta edizione del concorso fotografico Rendere visibile l'invisibile in ricordo di mio fratello Marco e la premiazione domani si riunirà alla giuria per scegliere fra le 205 foto arrivate le 50 migliori foto che verranno esposte a Villa San Giacomo nel weekend del 25-26 marzo dalle ore 10 alle ore 18 e il 26 marzo, domenica alle ore 11 ci sarà la premiazione del concorso quest'anno come l'anno scorso il concorso è stato organizzato in collaborazione col fotoclub immagine di Santa Margherita Ligure e col patrocinio del comune di Santa Margherita Ligure Rendere visibile l'invisibile è proprio il titolo del concorso in sé di anno in anno però viene dato un tema ai concorrenti qual è il tema di quest'anno e a che cosa è ispirato? Sì, ogni anno il tema si ispira ad una frase celebra a un qualcosa che più o meno tutti conosciamo quest'anno il tema è un altro punto di vista ed è ispirato ci siamo ispirati al film L'attimo fuggente nel quale Robin Williams impersonando il ruolo del professor Keating esorta i suoi alunni a guardare le cose da un altro punto di vista salendo sulla cattedra il professor Keating dice che è proprio quando pensiamo di conoscere una cosa che dobbiamo guardarla da un'altra prospettiva e li esorta a salire sulla cattedra per vedere loro stessi come si vede da lassù e ci è sembrato un tema molto adatto ad un concorso di fotografia proprio perché con la fotografia spesso si riescono a mettere in evidenza sfumature o dettagli che altrimenti rimarrebbero nascoste nello sfondo quindi senza fermarsi alle apparenze sì esorta Keating il professor Keating nell'attimo fuggente esorta i propri alunni a non fermarsi alle apparenze e a rendersi conto che le cose non sono solo possono non essere solo come noi le percepiamo come noi le vediamo ma tutto ciò che incontra i nostri sensi può essere percepito e visto da infiniti punti di vista quindi Santa Margherita è la sede del concorso di quest'anno però è il secondo anno che si svolge a Santa Margherita qual è il collegamento fra la famiglia di Marco e la città di Santa? Marco noi siamo cresciuti siamo nati e cresciuti a Santa Margherita Ligure e quindi Marco a Santa Margherita ha le sue radici ha molti amici e l'idea l'anno scorso è stato il primo anno nel quale abbiamo avuto il patrocino del comune di Santa Margherita grazie soprattutto ad un amico di Marco l'assessore Costa che in questo momento è nella giunta comunale di Santa Margherita Ligure e quindi dall'anno scorso mentre prima il concorso il primo anno era stato organizzato al liceo Nicoloso da Recco nel quale Marco aveva studiato ed era stato organizzato sotto iniziativa di noi familiari e di alcuni compagni di scuola di Marco e professori ai quali Marco era molto legato e l'anno successivo si è svolto nuovamente a Recco e negli ultimi anni ci siamo siamo un po' tornati alle origini quindi siamo molto contenti di questa possibilità di avere il patrocinio del comune di Santa Margherita perché è un po' come un ritorno a casa di questo concorso Prima di ricordare le date parliamo un attimo da dove arrivano i lavori quest'anno? come l'anno scorso abbiamo aperto il concorso ai fotoamatori di tutta Italia e anche quest'anno sono arrivate foto da tutta Italia sono arrivate 205 fotografie per un totale mi sembra di 73 autori e domani si riunirà la giuria per scegliere le migliori 50 fotografie qual è la foto che arriva da più lontano? c'è sicuramente qualche foto che arriva dalla Puglia però adesso da più lontano non so se ci sono foto anche da più lontano perché io al momento non ho ancora visto chi sono i partecipanti poiché domani sarò uno dei membri della giuria non posso sapere ancora i nomi e quali sono le fotografie le vedrò domani e sono molto curiosa di vederle non vedo l'ora come allestirete la mostra quest'anno l'anno scorso c'era una sala dedicata ai lavori di Marco anche quest'anno perché l'anno scorso abbiamo esposto le foto più grandi di Marco quest'anno ci sarà una sala nella quale vengono esposte le migliori 50 del concorso e nella saletta adiacente altre foto è un'altra mostra personale di Marco Corvisiero di mio fratello con le foto un po' più piccole perché ne abbiamo tantissime che avevamo già esposto 5 anni fa all'hotel Continental di Santa Margherita e quindi pensavamo di sceglierne una ventina per fare una mostra anche quest'anno quindi vogliamo ricordare il luogo e il giorno in cui si potrà ammirare intanto tutti i lavori e assistere anche alla premiazione quanto rimarrà aperta poi questa mostra? la mostra sarà aperta nel weekend del 25-26 marzo a Villa San Giacomo a Santa Margherita Ligure come orario dalle 10 alle 18 orario continuato domenica 26 alle 11 ci sarà la premiazione del concorso quindi per chiunque volesse partecipare venire a vedere le foto oppure partecipare alla premiazione siete benvenuti diciamo che questa villa si trova all'interno del parco dove c'è Villa Durazzo per le persone che vengono da fuori si tra l'altro è una villa molto bella quindi per chi non avesse avuto ancora modo di vederla può essere un'occasione per vedere entrambe le cose bene non mi resta che lasciate le previsioni in mieto per la giornata di domani alla programmazione di Entella TV ricordo che l'informazione che la nostra emittente tornerà domani alle 12.45 alle 14.15 con il TGT Guglio e quindi con Marisa Spina mentre in serata andrà in onda il TGT Guglio tradizionale alle 19.30 e alle 22.45 grazie per l'attenzione a domani previsioni per domani mercoledì 15 marzo al mattino sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio sottili passaggi di nubi alte venti deboli in prevalente regime di brezza con locali rinforzi da nord tra Genova e Savona e da sud-est a Levante al mattino mare poco mosso umidità su valori medi le temperature previste sulla costa tra 7 e 19 gradi nell'entrotera tra 5 e 21 gradi a a a a a a a Grazie a tutti.